Questa me la paga peggio di quando ho detto a mamma che non sono andato a scuola Vedi! Te l'ho detto! Non ci credo, è la prova definitiva! Io te l'ho detto, dai che stu... Lei è una cretina! Lei ha fatto entrare il fratellino! Cioè, ma io... Ma io, in serio? Cioè, ma... Tutte le persone del mondo! Dai, però! Cioè, il super cattivo è il fratellino stupido che vuole entrare anche lui E lui, voglio entrare, te lo dico a mamma se non mi fai entrare E lei l'ha fatto entrare! Guarda, cioè, la prova è, ragazzi! Fa sempre la grande con me e non posso mai decidere di nulla Questa me la paga peggio di quando ho detto a mamma che non ero andato a scuola Cringe! Cringe! Ah, una mamma mia c'è una cosa importante Dicono che c'era una leva nella stanza degli Axolotl che abbiamo saltato Ok, torno subito indietro, grazie Ah, sì, no, quella probabilmente attiva la ciocca Axolotl Sì No, no, no! Ah!